se siamo pronti eh amici ogni settimana a quest'ora c'è il CA-BA-RE GUERRE ma vuoi cabaret chiamami che ti faccio scialare GUERRE GUERRE mi chiami GUERRE intanto intanto adesso sapete che Instagram è in down ragazzi si si non funziona Instagram è impossibile aggiornare il feed Facebook down quindi volevo andare a controllare quanto eravamo rimasti come visualizzazioni del cabaret dell'altra settimana dopo vi aggiorniamo comunque non siamo al miliari sera eravamo ancora tipo a 500 e qualcosa a mila ragazzi ma 500 mila è un risultatone si ma io ho detto che mi facevo prete se non arrivavamo al milione lo so mi ricordo ragazzi io qualche altra settimana e poi vado in convento guarda il 27 di marzo che è il tuo compleanno fai voti prendi voti va bene adesso vediamo però insomma oggi non faccio scommesse su nulla va bene cominciamo siamo dal dottore tu sei una donna lei è dottore io sono una donna che va dal dottore va bene dottore dottore mio marito è scivolato oggi pomeriggio e ha battuto la testa sul pavimento stia calma stia calma signora mi dica ma ora è lucido? no devo ancora passare la cera carina ma no è il marito non mi è piaciuto io poi non dovrei ridere quelli che dicono le battute non dovrebbero ridere tutto ciò che riguarda l'economia domestica pulizia mi piace io sento te che ridi non ridere io dovrei rimanere sete ecco là perché poi c'è c'è ripensato c'è il rebound è come un frisbee torna indietro va bene allora andiamo avanti due amici si incontrano va bene ciao sai che ieri ho incontrato tuo fratello ma lui non mi ha visto? sì me l'ha detto me l'ha detto quindi mi ha visto certo ci sono altri problemi che mascalzone adesso siamo in un negozio di insomma per la casa insomma arredamento benissimo benissimo buongiorno buongiorno mi scusi senta vorrei cambiare la pavimentazione del mio appartamento bene ingress no ingress salone cucina bagno tutta la casa tutta la casa diciamo mamma no solo l'ingress io avevo puntato tanto su questa no sulla tre questa è la tre menda la tre è tremenda no è tremenda ma ingress ma la capite ingress salone ingress ingress quel materiale ingress salote cucina vabbè comunque adesso andiamo a scuola con le ultime due cominciamo con la musica con la musica allora ragazzi sapete qual è il rapper più amato in Vaticano rapper più amato in Vaticano è facile Eminence Eminence sua Eminence please stand up please stand up sua Eminence l'hai capita sì Eminence per chiamare le guardie te lo dico va bene vedi senti senti sì per carità bellissimo e poi adesso parliamo di geografia astrofisica astro tutto geopolitica e tutto il resto ragazzi mi sapete dire cosa dice un tornado a un altro tornado bentornato cioè questa deve esserla più forte sì e deve essere la chiusura col botto ma il botto l'hai fatto tu però ho detto su questa Lanfranchi ride perché bentornato bentornato non ci sto no non ci sto è orrendo cioè rido perché proprio è una cosa ridi perché fa schifo sì meno male che ci sono non ho capito il gioco no non è un gioco tranquillo giochiamo dopo Bunker 44 Campino D'Angiom ma che idea bella che c'è Grazie a tutti.